Per anni siamo cresciuti con l'ossessione che per diventare forti come braccio di ferro dovessimo mangiare quintali di spinaci. Con la ricetta di oggi sicuramente non diventerai un maciste, ma di sicuro sarai felice! Lascia riposare la pastella coperta con la pellicola Natural Roto Fresh che attenta alla natura, biodegradabile e compostabile e pratica grazie al suo strappo facilitato. Per rendere ancora più gustoso il piatto alternerò le frittatine con lo stracchino alo yogurt Tomasoni prodotto con fermetti lattici che garantiscono un prodotto che mantiene a lungo le sue proprietà otanolettiche. Grazie a tutti!